coloriamo insieme oggi bambini saremo tutti occupati a pulire le strade della nostra città questo camion della spazzatura è utilissimo nelle grandi e piccole città per ritirare tutta la spazzatura dei bidoni e portarla alla discarica vediamolo in azione come potete vedere il nostro camion si accosta al cassonetto pieno e il nostro amico operatore lo apre per facilitare lo svuotamento ora con le braccia meccaniche il camion aggancia il cassonetto pieno e lo ribalta per svuotarlo ora l'immondizia è stata portata via ed il nostro camion va alla ricerca di altri cassonetti da svuotare grazie mille camion giallo rosso nero blu grigio verde quest'altro camion è indispensabile per la città la sua funzione è quella di sostituire i cassonetti ricolmi di spazzatura con altri appena svuotati in questa maniera la città potrà essere sempre pulita e profumata vediamo come funziona questo camion si usa per degli speciali cassonetti vedete tramite un sistema di leve meccaniche il nostro operatore posiziona il nuovo cassonetto a terra lo sgancia dal rimorchio e ora spostandosi in avanti va a raccogliere il cassonetto sporco usando lo stesso meccanismo di leve per posizionarlo sul rimorchio che sistema divertente in avanti va a raccogliere il è stato il nostro piatto ed ora partiamo e andiamo a portare il cassonetto sporco al punto di raccolta giallo grigio blu nero verde questo camion come quello precedente serve a sostituire cassoni di rifiuti di cantiere con cassoni puliti assomiglia molto al camion di prima vedete l'operatore scende ed aziona le leve meccaniche per posare a terra il cassone pulito ehi ciao butta pure qui nel cassone pulito ed ora andiamo a raccogliere il cassone pieno di rifiuti per portarlo via il braccio elettrico è fondamentale per facilitare questo compito sembra davvero pesante ed ora posizioniamo sulla piattaforma il cassone sporco per portarlo al centro di raccolta e il gioco è fatto avete visto bambini i camion ci aiutano a tenere pulita la nostra città ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte facendo nel modo corretto la raccolta differenziata così aiuteremo i nostri amici camion e il nostro amato pianeta alla prossima camion e alla prossima anche a voi bambini ciao ciao